finalmente, grazie, grazie signore che ci hai dato il calcio, grazie signore, grazie davvero mamma mia, cazzo, ci vuole il meme, oh ma allora sei sano, allora siete sani, allora siete sani, oh che cazzo, e ci voleva tanto, e ci voleva tanto, ci voleva tanto, ci voleva tanto a tutti, Vincenzo, cioè ci voleva tanto a mettere in campo una squadra del genere a vedere questa prestazione? Ragazzi vi ricordo ovviamente che sotto in descrizione c'è l'app di OneFootball, mentre chiudo una porta, la potete scaricare completamente gratuita, senti qui che rimbomba c'è qua, con la quale potete continuare a seguire la Fiorentina per il suo percorso conference, per il suo campionato, tutte le altre squadre di Serie A, tutte le squadre appunto dei campionati esteri, tutte le coppe estere, e da novembre ovviamente anche il mondiale, la trovate ovviamente in descrizione, la potete scaricare completamente gratuita. finalmente, finalmente ragazzi, risultato nettissimo, 3-0 contro i cuoricini di Edimburgo, grazie, grazie, perché era quello che bisognava fare, era il risultato che dovevi portare a casa, clean sheet, risultato largo, era quello che ti dovevi portare a casa, poi tra l'altro dal 49esimo, sono rimasti anche in 10 per un'espulsione che non c'era, perché in realtà c'era, Majovic era in fuorigioco di 2 metri, però, oh, non c'è il VAR nella conference, non l'avete voluto? Cazzi vostra, ve lo tenete. Quindi, va benissimo così, ma comunque a prescindere il risultato sarebbe stato lo stesso a favore della Fiorentina, anche perché gli Arts, come lo era in riga appunto, pochissima roba, veramente poco, 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 a dire chi è la squadra più scarsa fra le due, mi viene da dire gli Arts per la prestazione di stasera, però, c'è veramente una bella gara tra entrambi, però, incredibilmente stasera siamo stati più concreti, l'altra volta siamo stati, scusate, meno concreti, addirittura 30 di riporta e un gol fatto. Oggi, oggi si sono viste varie conferme in campo, finalmente, cazzo, finalmente, perché qualcuno è stato messo anche nella posizione che gli compete, finalmente, finalmente, cazzo, ma ci voleva tanto per capirla questa roba. Allora, con calma, partiamo dalla porta, innanzitutto abbiamo ritrovato, ha fatto una parata, buona, però buona, salva risultato, parata di Gollini che finalmente, diciamo un pochino, potrebbe essere questa la partita per fargli riprendere un attimino di fiducia, perché è cazzata di saponare, non si sapeva che stava a fargli in difesa e ridà la palla all'attaccante dei cuoricini e bella parata con il piede di Gollini, ma poi per il resto, insomma, non è stato impegnato tantissimo. Biraghi, partita ordinaria, Igor sembrerebbe che sia uscito per un problema fisico, sperando che non sia nulla di grave, ma comunque anche lui è partita abbastanza ordinaria. Martínez Quarta, ragazzi, bella partita anche questa, oh, che vi devo dire, Martínez Quarta, ragazzi, ha fatto una signora partita, cazzo, ha fatto una signora partita anche stasera. Questa è una nota molto positiva, aver ritrovato un giocatore del genere e sapere che è questo il vero Martínez Quarta e non quello che abbiamo visto, insomma, all'inizio di quest'anno, alla fine dell'anno scorso, insomma, e che è questo qui, ci fa veramente piacere, perché è un giocatore che fa comodo sempre, che può giocare tranquillamente titolare, ma tranquillamente titolare. Terzic, ragazzi, Terzic, Terzic al posto di venuti. Cazzo, l'aria fresca di montagna dopo essere stati un mese nelle strade del Pakistan, davvero. Un cross, primo cross preciso sulla testa di Mandrago, che poi, per carità, giustamente l'ha potuto fare lui, perché? Perché essendo sinistro naturale, è rientrato e ha messo il cross a rientrare, invece che, insomma, a uscire. Mamma mia! No, scusate, il contrario, a uscire invece e a rientrare. Oh, ma finalmente, ragazzi, Terzic! Terzic è un giocatore che farlo giocare dalla panca è veramente uno spreco, considerando la qualità, la qualità che ha. Cioè, se gioca anche titolare nazionale o comunque gioca nazionale, ci sarà un motivo. Poi, ragazzi, oh, Mandragora! Grazie, Vincenzo! Finalmente! Cazzo, una volta che me lo fai partire mezzala, sto ragazzo! Ma lo vedi la differenza di farlo giocare play dietro, oppure come a Amrabat, oppure farlo giocare mezzala? La differenza! Perché questo ragazzo, ce li ha i tempi di inserimento, non fa quello che fa Amrabat, e ha i piedi buoni per fare il regista, ma la Fiorentina in questo momento, lì, come ruolo di mediano, cazzarola, serve uno che fa l'interditore, ma Mandragora non lo sa fare, sa fare la mezzala, sa fare molto bene la mezzala, e stasera ce l'ha dimostrato, perché più di una volta, a parte il gol, si è inserito un monte di volte ed è restato un monte di volte pericoloso, perché anche palle magari sparare in aria da Jovic, c'era sempre lui dietro, che poteva prenderla, quindi bravo, bravo Ronaldo, bravo Ronaldo, Ronaldo Mandragora, bravo Ronaldo, non Rolando, Ronaldo, bravo Ronaldo. Amrabat, vabbè, è clamoroso anche stasera, ma lo si sa, insomma, se gioca come gioca, è fortissimo, buon'avventura, partita comunque ordinaria, giusta, tranquilla, ragazzi, oh, mamma mia, vabbè, Sapunara anche lì, lui, partita tranquilla, poi l'hanno fischiato per tutta, per tutto, tutta la partita, perché, Dio mio, è rimasto in terra un minuto, ma perché uno gli era entrato a gamba tesa come un assassino e quindi tutta la partita sapunara merda, in scozzese, poi, oh, gambine ragazzi, ma chi se lo sarebbe mai immaginato che noi, nella nostra rosa, ci s'avesse un giocatore del genere, mai considerato, e lo si voleva anche mandare via calcio in culo, ragazzi, gambine stasera migliore in campo per me, migliore in campo, c'è una partita clamorosa, goal, assist, quantità, inserimenti, dribbling, sponde, c'è tutto, tutto ragazzi, tutto. Poi vi ripeto, l'avversario era molto modesto, quindi era facile anche fare delle prestazioni molto positive anche da parte di chi era in difficoltà, ma comunque ci voleva una conferma a prescindere. Signor giocatore, signor giocatore, ragazzi, veramente difficile da lasciare in panchina ora come ora, visto anche i milioni di infortuni che ci sa, però a prescindere, difficile da lasciare in panchina. Poi, oh, Jojovic, cazzo, Dio mio, che fatica, che fatica, che fatica, che fatica, gli ha fatta buttarla dentro, gli ha fatta. Cazzo, sapete cosa mi ha ricordato questa cosa? Quando c'era Mario Gomez che non la buttava dentro manco con le mani, che c'era tutti i compagni che cercavano di dargliela, cercavano di dargliela, e lui, poverino, sbagliava le cose più semplici, la tirava alta, e la sbucciava, e quando l'ha messa dentro con il Cagliari era proprio oh, cazzo, io spero che sia un nuovo inizio, un nuovo inizio, Luca, perché questo gol ti serviva e festeggiava alla fine, t'ho visto abbracciato insieme ai tuoi fratelli serbi tutti insieme, oh, dai, dai, fiducia, fiducia anche a te, perché è giusto così, è giusto perché sei giovane, devi riprenderti da anni di merda che hai passato di infortuni, quindi è giusto, è giusto, per il resto, ragazzi, non c'è molto altro da dire, partita che andava portata a casa, risultato che andava assolutamente archiviato in questa maniera, con un risultato netto, perché anche subire un gol mi sarebbe girato il cazzo, perché questa partita te dovevi vincerla con un risultato netto, per dare uno schiaffo, diciamo in positivo, alla tua stagione, visto come è andata fino ad ora, ovviamente fatemi sapere la vostra sotto nei commenti, ma ragazzi, finalmente, finalmente si può un po' enogioire, che cazzo, anche noi, dai, una volta, sempre Forza Viola, e poi ora aspettiamo lunedì la partita della Lazio, perché anche lì sarà, insomma, un bel banco di prova, eh, ciao ragazzi.